Si ha seguito qualcuno? Sono un professionista, ti ho detto. Ieri sera ha intercettato un messaggio cifrato. Sul tesoro di Mussolini è la nostra occasione per riprenderci tutto quello che ci hanno rubato. Solo tre uomini. Devono per forza essere uomini. Il ladro. L'esperto d'esplosivi. Viva l'anarchia. L'autista. Giovanni Fabri, il campione della mille miglia. Fabri non è affidabile. Perché? Vabbè, dai. Che cosa rubiamo? Ladro. Lascia stare i von. Se no puoi finire a peso. Tu e i tuoi amici straccioni. Voglio mica pigliare a peso per una sveltina, eh? Non ti prometto niente? Quando la gente ci guarda, vedete pezzenti? Io no. Io vedo dei virtuosi. E adesso l'occasione per dimostrarlo. Giù, giù, giù. Qualcuno mi ha detto che nessuno è più furbo della storia. No! No! Fanculo la storia. No! 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 Grazie a tutti.